I carabinieri della stazione di Petrosino hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla scasa familiare e di vieto di avvicinamento alla compagna nei confronti di un tunisino di 44 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Da una serie di accertamenti eseguiti dai carabinieri della compagnia di Marsala sarebbero emersi gravi episodi di violenza e minacce da parte dell'uomo nei confronti della compagna che stanca di subire questi atteggiamenti si è affidato al comandante della stazione che ha prontamento avviato l'indagine.